Quanto ne sai sulle merendine? Scoprilo con il nostro videotest! Come vengono selezionati gli ingredienti delle merendine? In base al miglior prezzo, alla provenienza degli ingredienti, a qualità e sicurezza. Seleziona la risposta. Seleziona la risposta. La risposta esatta è in base alla qualità e alla sicurezza. Gli ingredienti utilizzati sono quelli che normalmente servono per fare un dolce. L'industria fa così. Seleziona attentamente i fornitori, usa solo materie prime certificate, effettua migliaia di controlli su ingredienti e packaging per evitare contaminanti, batteri, allergeni, OGM, ecc. e sicurezza migliaia di controlli. Per ess Domicil Haraden?